Giunse in Italia alla fine degli anni 50 dal Pakistan, dove era nata nel 1944 da genitori britannici. Nei primi anni 60 intraprende la carriera di attrice sottoponendosi ad alcuni provini, che la portarono al debutto nel 1963 in Omicron al fianco di Renato Salvatori e con la reggia di Ugo Gregoretti. Sono dell'anno seguente la sua interpretazione di Giulietta nel film Giulietta e Romeo di Riccardo. Fredda del 1964 e la partecipazione a Casanova 70 di Mario Molicelli in cui recita al fianco di Marcello Mastroianni, Michel Mercer, Virna Lisi e Marisa Mel. È del 1965 la sua interpretazione della sorella di Mortimer in per qualche dollaro in più di Sergio Leone. Nel 1966 è stata interprete insieme a Dani Paris dello spettacolo teatrale L. Isola. Commedia in due tempi messo in scena da Fabio Mauri. Negli ultimi anni della sua carriera posò senza veli per la rivista Playboy per poi abbandonare lo spettacolo e ritirarsi a vita privata fino alla sua morte. Negli ultimi anni Rosemary e Dexter visse a Re Canati, ospite dei Conti Leopardi, colpita da una grave malattia. Il 9 settembre 2010 venne trovata cadavere nella casa dove viveva da qualche tempo incompleto. Anonimato, il decesso fu fatto risalire a due o tre giorni prima del suo ritrovamento.